Giovan Battista Fazzolari è il collaboratore più stretto di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. È il braccio destro all'incarico di sottosegretario per l'attuazione del programma di governo, con la delega ai dossier più delicati e sul furei, ha scritto il Corriere della Sera, che gli ha dedicato una pagina con un'intervista a tratti, zuccherosa, solo a tratti. Molti lo chiamano Fazzo, per i vecchi camerati resta Spugna. Fazzo o Spugna è il potente più potente di Palazzo Chigi, secondo il Corriere, che lo definisce il risceglier di Giorgia. Allora noi abbiamo letto con grande attenzione l'intervista che gli ha fatto Fabrizio Roncone. Sul caso Gian Bruno strisce alla notizia e sulla famosa telefonata dei due comici russi alla Presidente del Consiglio, Fazzolari risponde è una narrazione disperata di chi vuole attaccare un governo che fa bene e una Premier che fa benissimo. Il giornalista gli chiede allora, quindi è vero che lei ha la delega alla propaganda? E qui Fazzo o Spugna lancia il cuore oltre l'ostacolo. Lo penso veramente. Risultati economici come mai negli ultimi anni. Prestigio internazionale, un largo consenso al governo. L'intervistatore non gli ha chiesto quali siano i risultati economici decantati da Fazzolari. Noi gli crediamo e proviamo a fare un piccolo elenco. La povertà assoluta è aumentata. L'Istat ci ha appena detto che alla fine del 2022 le famiglie in povertà assoluta erano aumentate da 2 milioni a 2,18 milioni e oltre 5,6 milioni di persone. Questo peggioramento è imputabile in larga parte all'inflazione. Il governo Meloni è nato alla fine di ottobre del 2022 e quindi non sarebbe giusto imputargli la responsabilità di questa povertà assoluta in crescita. Però non si può neanche dire che fino ad oggi vi abbia rimediato. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'anno. Nel secondo trimestre di quest'anno il reddito reale delle famiglie, cioè al netto dell'inflazione, in Italia è diminuito, meno 0,3%. Ma l'Italia è l'unico paese dell'Ocse, che sarebbe il gruppo dei paesi più ricchi del mondo, in cui il reddito delle famiglie è diminuito perché la media dell'Ocse è un aumento del più 0,5%. Quindi attenzione, Italia meno 0,3%, media dell'Ocse più 0,5%. E questo è un dato negativo. Nel terzo trimestre com'è andata? Il PIL dell'Italia è rimasto fermo, siamo alla crescita zero. E Mario Draghi ha detto di essere quasi sicuro che avremo una recessione entro la fine dell'anno. Una recessione che colpirà l'Europa e colpirà anche l'Italia, secondo Draghi. Il governo ha avarato la manovra economica per l'anno prossimo. E in questa manovra, però, molto discussa, taglia le pensioni. Peggiora le condizioni per le uscite dal lavoro anticipate e addirittura riduce le pensioni per i dipendenti pubblici, i medici in particolare, che hanno cominciato a lavorare prima del 1996. Insomma, una situazione piuttosto controversa. E il Fondo Monetario Internazionale ha bocciato la manovra del governo Meloni. Ha detto che non favorisce la crescita. Meloni e il Ministro dell'Economia, Giorgetti, hanno indicato una crescita dell'economia del PIL dello 0,8% quest'anno e dell'1,2% nel 2024. Su questa base dicono che il macigno del debito pubblico dell'Italia non aumenterà rispetto al PIL. Dovrebbe rimanere intorno al 140% del PIL. Il fatto però è che a queste previsioni non crede nessuno e forse non ci credono neppure Giorgia e Giorgetti. Il Fondo Monetario, la Banca d'Italia e adesso anche la Commissione Europea, nelle loro stime hanno tagliato allo 0,7% le previsioni di crescita del PIL di quest'anno. A preoccupare però è soprattutto il 2024. La Banca d'Italia stima che il PIL aumenterà solo dello 0,8% e non l'1,2% che dice il governo. E la UE ha tagliato le stime allo 0,9%. Secondo il Sole 24 Ore, insieme alla Germania e alla Finlandia, l'Italia è il paese che rischia, nell'area dell'euro, di crescere di meno nel 2024. Il rapporto debito-PIL, secondo la Commissione UE, dovrebbe scendere un po' quest'anno al 139,8%, ma poi dovrebbe risalire al 140,6% nel 2024 e qualche decimale in più l'anno successivo. Attenzione però, queste previsioni si basano sulla presunta attuazione del PNRR, cioè il salvifico piano di spesa attraverso il quale l'Italia dovrebbe riuscire a crescere. Ma sappiamo che l'esecuzione del PNRR è in forte ritardo e quindi c'è il rischio che i conti debbano essere rifatti e che si debba levare mezzo punto percentuale del PIL. Ci fermiamo qui nell'elencare i risultati economici decantati da fazzolari, ma siamo sicuri che il risceglier di Giorgia saprà elencarne altri, come mai negli ultimi anni.